E' stato arrestato dalla polizia uno dei due rapinatori che a distanza di dieci giorni nell'ottobre dello scorso anno si è reso protagonista con un complice di violente rapine prima a Fano e poi a Pesaro ai danni di esercizi commerciali gestiti da cittadini di etnia cinese. E' un bosniaco di 50 anni che vive per strada nel riminese irregolare sul nostro territorio ma senza fissa dimora ma capace di eseguire colpi con estrema efferratezza. Una lista di precedenti bella lunga sempre per reati contro il patrimonio ed il vizio dell'alcol completano la sua carta d'identità. A lui sono risaliti dopo complesse indagini gli uomini della squadra mobile della questura di Pesaro e del commissariato di Fano che lo hanno rintracciato il 6 febbraio scorso in una baracca nel riminese dove si rifugiava, definito dagli inquirenti un personaggio pericoloso capace di qualsiasi reazione. La solidità degli indizi a suo carico raccolti dagli investigatori hanno consentito alla procura di emettere un mandato di cattura a suo carico. Il perché assieme al suo complice sul quale ora si stanno eseguendo ulteriori indagini per identificarlo avessero scelto come obiettivo prediletto gli empori gestiti dai cinesi rimane un aspetto da chiarire. Fatto sta che armato di una spranga di ferro con la quale minacciava gestori e titolari dei negozi rapinò prima Fano il 13 ottobre il mercatone Yuhao nella zona ex Zuccherificio in via Mattei dove portarono via 1500 euro dalla cassa e terrorizzarono titolare e figlia che si era rivoltata contro di loro. E poi il 26 di ottobre appesano nella zona del Palace in via Gagarin stessa trama ai danni del negozio Nihao bottino qui 600 euro ma dove il bosniaco era entrato addirittura armato di coltello con il quale minacciò alla gola il titolare. In entrambi i casi i due si diedero alla fugo su una Fiat Pundo bianca rubata ma con targhe diverse. Ad incastrare il cinquantenne le immagini delle telecamere scandagliate dai poliziotti dove si vede l'uomo effettuare col volto travisato e con abbinamento diverso dei sopralluoghi nei negozi prima dei colpi. Riteniamo di aver sgominato un duo di malviventi molto pericoloso per il fenomeno delle rapine che dalla vicina Romagna entravano nel nostro territorio e avevano cominciato a colpire gli esercizi commerciali della nostra provincia, nelle città principali di Fano e Pesaro e quindi riteniamo di aver sgominato e di aver fermato questo pericoloso fenomeno. E' stato importantissimo arrestare questo componente della banda dice la polizia che aveva dimostrato efferatezza e di saper fronteggiare con violenza anche le reazioni dei malcapitati. Ora il bosniaco si trova in carcere a Rimini a disposizione dei magistrati mentre gli investigatori si stanno concentrando in queste ore sul suo complice.